Il bottegaio preoccupato. Io non invito il bottegaio preoccupato nel politico disonesto a casa mia. A ciascuno il suo lavoro. Il mio è trarre il miele dall'amaro della vita. Commento. Tu spacchi così la gamma di sentire per cui tu, il bottegaio e il politico, vi siete incarnati nello stesso ambiente evolutivo. Questo significa che avete tutte e tre pressa poco la stessa evoluzione.